lo scandalo di padre brown capitolo 7 la punta di spillo padre brown ha sempre dichiarato di aver risolto il caso che segue mentre dormiva e questo è vero per quanto sia abbastanza strano dato che accade in un periodo in cui aveva il sonno molto agitato era disturbato dal martellio che iniziava molto presto al mattino nel grandioso edificio o mezzo edificio a quel tempo ancora in costruzione di fronte a casa sua si trattava di un colossale complesso di appartamenti per la maggior parte ancora avvolti nelle loro armature di cartelli che annunciavano che l'impresa costruttrice e proprietaria era la ditta swindon and sand quel martellio si rinnovava a intervalli regolari ed era facilmente riconoscibile perché la swindon e sand si era specializzata in un nuovo sistema americano di pavimentazione a cemento che nonostante la levicatezza solidità impermeabilità e il comfort che garantiva doveva essere eseguito in certi punti con attrezzi pesantissimi padre brown tuttavia cercava di trarre dalla situazione ogni vantaggio possibile e perciò diceva che quello era il carillon che lo svegliava alla mattina presto in tempo per la primissima messa dopo tutto diceva non c'era meno poesia per un cristiano nell'essere risvegliato dal rumore dei martelli anziché dal suono delle campane quelle operazioni edilizie finirono però per dargli sui nervi per un'altra ragione sopra quel grattacielo costruito per metà minacciava una nube cupa una probabile crisi che i giornali insistevano a descrivere come uno sciopero mentre invece se la crisi fosse davvero arrivata sarebbe stata piuttosto una serrata comunque padre brown si dava molto pensiero per ciò che poteva accadere in quelle condizioni ci si poteva chiedere se quel martellio attirasse la sua attenzione ai suoi nervi perché continuava o perché poteva cessare da un momento all'altro per quel che riguarda i miei gusti disse padre brown guardando verso la cima dell'edificio con il suo occhio da civetta preferirei che finisse presto anzi vorrei che tutte le case fossero finite quando sono ancora avvolte nelle loro impalcature è un vero peccato che le case vengano portate a termine sembrano così fresche così promettenti dietro quella fiabesca filigrana di legno chiaro così leggere scintillanti al sole troppo spesso invece si finisce per trasformarle in tombe mentre distoglieva lo sguardo dall'oggetto della sua attenzione mancò poco che si scontrasse con un uomo che aveva appena attraversato rapidamente la strada per andargli incontro era un tale che conosceva appena ma abbastanza da ritenerlo in quel caso un uccello di malaugurio il signor mastic era un uomo tarchiato con la testa squadrata che difficilmente sarebbe stato preso per un europeo specie con quel vestito di una pesante eleganza da damerino europeizzato padre brown l'aveva visto di recente mentre parlava con il signor sand junior dell'impresa costruttrice e non gli era piaciuto questo mastic era il capo di un'organizzazione piuttosto nuova nella politica industriale britannica nata dagli estremismi di entrambi le parti un'organizzazione che disponeva di un vero esercito di lavoratori non iscritti ai sindacati e in gran parte stranieri i quali venivano ingaggiati in intere squadre dalle varie ditte mastic si aggirava da quelle parti nella speranza di collocare qualcuno da swindon and sand in altre parole stava studiando il modo di estromettere i sindacati riempiendo l'impresa di suoi crumiri padre brown aveva presenziato a qualcuna delle trattative perché in un certo senso era stato chiamato in causa da entrambe le parti dal fatto che i capitalisti ritenevano con qualche ragione che lui fosse un bolcevico mentre i bolcevichi giuravano che fosse un rigido reazionario attaccato alle ideologie borghesi si può dedurre che padre brown dicesse un mucchio di cose sensate senza ottenere nessun effetto apprezzabile la notizia che il signor mastic veniva ora a riferire doveva però indirizzare la conversazione in una direzione tutta nuova domandano di voi subito disse mastic in un inglese dall'accento orribile si minaccia un omicidio padre brown seguì la sua guida in silenzio su per varie gradinate scale a pioli finché arrivarono su una piattaforma dell'edificio in costruzione dove erano radunati tutti i più o meno noti dirigenti dell'impresa costruttrice fra loro c'era anche colui che ne era stato il capo un tempo un capo però con la testa piuttosto fra le nuvole ma era un capo con corona nobiliare che lo nascondeva alla vista umana come una nube celeste lord staines in altre parole non si era soltanto ritirato dall'impresa ma era stato rapito verso l'alto nella camera dei lord e là era scomparso le sue rare apparizioni erano effimere e in qualche modo paurose questa in particolare unita alla presenza del signor mastic sembrava gravida di minacce lord staines un uomo magro dalla testa oblunga con occhi incavati e radi capelli biondi che lasciavano intravedere l'incipiente calvizie era la persona più evasiva che il prete avesse mai incontrato era impareggiabile in quel suo talento oxfordiano quando diceva indubbiamente credete di aver ragione o anche semplicemente osservava lo credete lasciando malignamente intendere vi piacerebbe crederlo padre brown pensò subito che quell'uomo non era solo annoiato ma anche un po' amareggiato per quanto fosse difficile capire se la ragione dipendesse dal fatto di essere richiamato giù dal suo limpo per venire a controllare simili diatribe commerciali oppure dal non essere più davvero in condizione di poter controllare la situazione nel complesso padre brown preferiva il gruppo più borghese di soci hubert sand e suo nipote henry nonostante avesse molti dubbi sul fatto che loro credessero in qualche ideologia era vero che hubert sand si era guadagnato una notevole celebrità sui giornali sia come finanziatore di sport sia come patriota in molte circostanze difficili durante e dopo la grande guerra di età già abbastanza avanzata si era distinto in francia ed era stato poi esaltato come un trionfante capitano d'industria capace di superare ogni difficoltà fra gli addetti alla produzione di munizioni era quello che chiamavano un uomo forte ma non era colpa sua in effetti era uno di quegli inglesi grossi e cordiali gran nuotatore eccellente signore ammirevole colonnello dilettante in realtà il suo aspetto aveva qualcosa che si poteva definire militaresco cresceva di volume ma conservava le spalle dritte i capelli ricci e i baffini erano ancora bruni mentre il colorito del volto cominciava già da vizzire a sfiorire suo nipote era un giovanotto corpulento intraprendente e piuttosto invadente con una testa piccola che spuntava fuori da un collo robusto quasi fosse abituato ad affrontare le situazioni sempre a testa bassa atteggiamento che i suoi occhiali appisne appoggiati in equilibrio sul pugnace e lungo naso appuntito rendevano ancora più curioso e bambinesco padre brown aveva già osservato tutto questo ma in quel momento tutti stavano osservando qualcosa di completamente nuovo nel bel mezzo dell'impalcatura appeso come un chiodo e sventolante nell'aria c'era un foglio di carta con scarabocchiato qualcosa rozze lettere a stampatello che sembravano scritte da una mano frenetica come se l'autore fosse un illetterato o una persona che imitasse gli illetterati il foglio diceva il consiglio dei lavoratori avverte hubert sand che se diminuirà i salari e licenzierà i dipendenti sarà suo rischio e pericolo se domani mattina saranno presi simili provvedimenti sarà ucciso dalla giustizia del popolo dopo aver esaminato il foglio lord steins rivolse lo sguardo verso il suo socio e disse con un tono piuttosto sarcastico bene siete voi che vogliono accoppare evidentemente non vale la pena di far fuori me in quel preciso momento la mente di padre brown fu percorsa da una di quelle scosse elettriche che talvolta lo colpivano dando di perfino un brivido ebbe la strana intuizione che l'uomo che stava parlando non potesse essere assassinato perché era già morto era lo ammise anche lui buonariamente un'idea del tutto insensata ma c'era qualcosa che gli dava il brivido nell'isolamento freddo e splendido del nobile socio nei suoi occhi sprezzanti e nel suo colore cadavericcio quel tipo pensò malignamente padre brown agli occhi verdi e a vederlo si direbbe che abbia anche il sangue verde ad ogni modo era certo che hubert sand non avesse il sangue verde il suo sangue che era in ogni senso più che rosso gli coloriva le guance ormai sfiorite avvizzite dal tempo in tutta la calda pienezza di quella vitalità che gli uomini di buon carattere dimostrano quando qualcosa suscita la loro naturale e sincera indignazione in tutta la mia vita disse con voce alta e tuttavia incerta non mi è mai stato detto ho fatto un simile affronto posso aver avuto qualche divergenza nessuno di noi può divergere di fronte a una cosa del genere intervenne con impeto il nipote ho cercato di trovare un accordo con loro ma adesso stanno tirando troppo la corda non credete sul serio cominciò padre brown che i vostri operai dico che possiamo aver avuto qualche divergenza riprese il vecchio sand ancora un po trepidante ma dio sa che non ho mai neanche pensato di minacciare gli operai inglesi di diminuzione del salario nessuno di noi ha mai avuto un'idea simile disse il giovanotto ma per quello che ti conosco io zio con questo incidente la questione può dirsi liquidata poi dopo una pausa giunse ritengo anch'io come dici tu che abbiamo avuto qualche divergenza su alcuni particolari ma in quanto alla vira politica mio caro amico disse lo zio rassicurato ho sempre sperato di non arrivare ad avere un vero conflitto da questo chiunque conosca l'inghilterra può giustamente dedurre che c'erano state divergenze piuttosto considerevoli in verità zio e nipote differivano l'uno dall'altro quasi come un inglese da un americano lo zio aveva l'ideale inglese di considerare la questione dall'esterno e di cercarsi una specie di alibi alla moda dei nobili proprietari terrieri il nipote aveva invece l'ideale americano di entrare nel vivo della questione di studiare il meccanismo pezzo per pezzo così infatti aveva sempre fatto e gli erano ormai familiari tutti i processi e gli espedienti del mestiere era anche americano nel fatto che non ci teneva a far sentire il peso della sua superiorità come imprenditore ma preferiva mostrarsi pari ai suoi dipendenti lavorare con loro per questo aveva agito spesso quasi come un rappresentante dei lavoratori per le questioni tecniche senza riuscire tuttavia a raggiungere la celebrità che suo zio aveva nella politica e nello sport il ricordo delle molte occasioni in cui il giovane henry era uscito dal cantiere in maniche di camicia per chiedere migliorie alle condizioni dei lavoratori dava una forza peculiare che poteva dirsi persino violenta alla reazione che ora manifestava in senso opposto bene questa volta gridò sono stati così stupidi da tagliarsi i ponti alle spalle dopo una minaccia di questo genere non c'è altro da fare che sfidarli non c'è altro da fare che prenderli di petto ora subito all'istante altrimenti diventeremo lo zimbello del mondo intero il vecchio sand con uguale indignazione corrugò le sopracciglia ma riprese a dire lentamente sarò molto criticato criticato esclamò il giovanotto criticato se reagisce a una minaccia di morte ma hai la minima idea di come saresti criticato nel caso contrario forse ti piacerebbe leggere sulle prime pagine grande capitalista terrorizzato o imprenditore cede di fronte a una minaccia di morte specialmente disse lord steins con qualcosa di un po sgradevole nel tono specialmente quando si è già stati citati nel titolo come il magnate delle dirizze in acciaio sand si fece ancora rosso e la voce gli uscì decisa da sotto i grossi mustacchi si capisce avete perfettamente ragione se questi bruti credono che io abbia paura a questo punto ci fu un'interruzione nella conversazione del gruppo e uno smilso giovanotto si diresse in fretta verso di loro la prima cosa che si notava in lui era che si trattava di uno di quei tipi che gli uomini e spesso anche le donne ritengono un po troppo belli per essere belli davvero aveva splendidi capelli neri e ricci baffetti che sembravano seta e parlava con un tono da gentiluomo ma con un accento modulato con eccessiva precisione troppo raffinato padre brown lo riconobbe subito era rupert rye il segretario del signor hubert lo aveva spesso visto darsi da fare in casa del suo principale ma mai con tanta impazienza nei suoi movimenti e con una fronte tanto aggrottata mi spiace signore disse al signor hubert ma c'è un uomo laggiù che si aggira da un po qua intorno ho fatto del mio meglio per liberarvene ma ha una lettera che giura di dover consegnarvi personalmente volete dire che è già stato a casa mia domandò sand lanciando un rapido sguardo al suo segretario voi siete stato là tutta la mattina non è vero sì signore rispose rupert rye seguì un breve silenzio poi hubert sand ordinò seccamente che l'uomo fosse fatto venire avanti e quello arrivò nessuno neanche una donna benevola avrebbe potuto dire che il nuovo venuto era bello aveva due grandi orecchie una faccia simile a quella di una rana e il suo sguardo era fisso in modo quasi spettrale per via secondo padre brown del fatto che uno dei suoi occhi era di vetro anzi per la sua fantasia padre brown fu tentato di attribuirgli due occhi di vetro data la fissità vitrea con cui continuava a contemplare tutta la compagnia ma l'esperienza del prete che era una cosa tutta diversa dalla sua fantasia poteva trovare altri motivi per quello sguardo innaturale da statua di cera uno di questi doveva essere l'abuso del dono del vino e delle bevande fermentate l'uomo piccolo e scialbo portava un gran cappello a bombetta in una mano e una grande lettera sigillata nell'altra hubert lo guardò e poi disse abbastanza tranquillo ma con una voce che sembrava stranamente debole per uscire da un corpo di quella mole o siete voi allungò la mano per prendere la lettera poi guardandosi intorno come per chiedere scusa rimase con le dita in sospeso prima di strappare un lembo per aprire e leggerla quando la ebbe scorsa se la cacciò nella tasca interna della giacca poi disse in fretta e con un po di irritazione bene allora la faccenda è chiusa come dite voi non ci sono trattative che tengano comunque non potremmo pagare i salari che ci vengono richiesti ma avrò bisogno di te ancora harry per studiare la faccenda più in generale d'accordo disse harry in un modo un po sgarbato quasi avesse preferito studiarsela da solo sarò al numero 188 dopo colazione devo vedere a che punto sono i lavori là l'uomo dall'occhio di vetro se era un occhio di vetro se ne andò via duro e impacciato e l'occhio di padre brown che non era affatto di vetro lo seguì pensieroso mentre infilava lo stretto cammino da cui era venuto giù per le scale e scompariva nella via il mattino seguente padre brown fece l'esperienza insolita di non svegliarsi o almeno di svegliarsi con la convinzione di essere in ritardo ciò era dovuto in parte al ricordo ammesso che ci si possa ricordare di un sogno di essere stato risvegliato solo a metà alla solita ora per ricadere poi nel sonno cosa che accade abbastanza spesso alla maggior parte di noi ma di solito non succede a padre brown più tardi si convinse stranamente per quel lato mistico della sua personalità che di norma lo distingueva dal mondo che in quello scuro e solitario isolotto da sogno tra i due risvegli era rimasto sepolto il tesoro della verità di questa storia stando così le cose saltò giù dal letto in fretta in furia si infilò gli abiti afferrò il suo ombrellone e si lanciò nella strada dove il bianco e gelido mattino stava spuntando come un ghiacciaio scintillante dietro all'enorme edificio che gli stava di fronte fu sorpreso di trovare le strade in quella fredda luce cristallina quasi vuote il loro aspetto gli disse che difficilmente doveva essere tardi come aveva temuto poi all'improvviso quella tranquillità fu spezzata dall'arrivo di una lunga macchina grigia che passò veloce come una freccia e andò a fermarsi davanti ai grandi locali deserti dalla macchina quasi srotolandosi scese lord steines che si avvicinò alla porta trascinando con non curanza due grosse valigie in quello stesso momento la porta si aprì e sembrò che qualcuno vi si ritrasse dentro invece di uscire sulla strada steines chiamò due volte quell'uomo prima di completare il suo movimento originale spingendosi fino alla soglia i due ebbero un breve colloquio che finì quando il nobiluomo si avviò su per la scala portando le sue valigie e l'altro rivelò due spalle robuste dalle quali spuntava la testa del giovane harry sand padre brown non capì molto di quello strano incontro finché due giorni dopo il vanotto non arrivò da lui con la sua automobile chiedendogli di salire è accaduto qualcosa di tremendo disse preferirei parlarne a voi piuttosto che a steins sapete steins è venuto l'altro giorno con l'idea assurda di sistemarsi in uno degli appartamenti appena finiti ho dovuto andare là presto ad aprirgli la porta ma di questo parleremo più tardi ora bisogna che veniate subito da mio zio è ammalato domando il prete credo sia morto rispose il nipote in che senso credo sia morto chiese padre brown piuttosto vivacemente avete chiamato un medico no rispose l'altro non ci sono né il dottore né l'ammalato a che serve chiamare il dottore per esaminare il cadavere quando il cadavere non c'è più ma temo di sapere dove si è andato a finire la verità è l'abbiamo tenuto nascosto per due giorni ma lo zio è scomparso non sarebbe meglio chiese dolcemente padre brown che mi diceste è quello che è accaduto cominciando dall'inizio lo so rispose henry sand è semplicemente vergognoso parlare così alla leggera di quel povero vecchio ma si arriva a questo quando non si sa più che santo votarsi non sono tipo da tenere nascosto qualcosa per farla breve il punto è che beh non voglio dirvi tuttora non voglio lanciare sospetti a casaccio e così via ma in breve il fatto è che il povero zio si è suicidato l'automobile ora stava scivolando verso gli ultimi soborghi della città per entrare nelle prime propaggini della foresta e del parco che la circondavano i cancelli della piccola proprietà di huber sand erano circa mezzo miglio più in là al centro di un bosco di faggi la proprietà consisteva essenzialmente in un piccolo parco e in un grande giardino ornamentale che scendeva a terrazze con una certa pomposità classica fin sulla sponda del fiume più importante della provincia non appena arrivarono davanti alla casa henry si trascinò dietro il prete attraverso una serie di vecchie stanze in stile georgiano fino a uscire sul lato opposto da cui discesero in silenzio il pendio un pendio piuttosto ripido tutto ricoperto di fiori dal quale potevano vedere il fiume pallido distendersi dinanzi a loro piatto e calmo come se lo scorgessero a volo d'uccello stavano precisamente voltando l'angolo del sentiero intorno a un'enorme urna di stile classico abbellita da una ghirlanda di gerani quando padre brown osservò qualcosa a muoversi nei cespugli dietro gli alberi sottili più sotto qualcosa che gli parla veloce come il volo di un uccello spaventato nel folto di quegli alberi accanto al fiume gli sembrò di vedere due figure staccarsi l'una dall'altra e allontanarsi una scivolò nell'ombra mentre l'altra andò nella loro direzione costringendole a fermarsi e a raccogliersi in un silenzio improvviso e ingiustificato allora henry sand disse alla sua maniera brusca penso che conoscevate padre brown signora sand padre brown la conosceva ma in quel momento avrebbe potuto dire di non riconoscerla il pallore la contrazione di quel volto erano come quelli di una maschera da tragedia era molto più giovane di suo marito ma in quel momento sembrava più vecchia di ogni cosa più vecchia di quella casa e più vecchia di quel giardino il prete ricordò con uno dei brividi del suo inconscio che lei era davvero più vecchia come carattere come linguaggio che la vera padrona di quel luogo la sua famiglia infatti una famiglia di aristocratici decaduti aveva posseduto quella proprietà prima che lei ne restaurasse le fortune sposando un ricco uomo d'affari ora là immobile com'era avrebbe potuto essere un ritratto o uno spettro di famiglia il suo volto pallido era di quel tipo appuntito ma tuttavia ovale che si vede in qualche vecchio ritratto della regina maria di scozia e la sua espressione sembrava quasi trascendere la naturale innaturalezza della situazione di un marito scomparso e sospetto suicida padre brown con la sua inconscia attività mentale si chiese chi potesse essere la persona con cui avesse parlato fino a quel momento fra gli alberi vi avranno detto della tremenda notizia disse con una compostezza desolata queste minacce rivoluzionarie devono aver sopraffatto il povero hubert fino a spingerlo a togliersi la vita non so se potete farci qualcosa o se questi odiosi bolcevichi possono essere ritenuti responsabili di questa persecuzione criminale sono terribilmente confuso signora sand disse padre brown anzi che devo confessare di essere un po sgomento voi parlate di minacce ma pensate che sia abbastato quel pezzo di carta appeso al muro per spingerlo al suicidio penso rispose la signora rabbuiandosi che ci siano state altre minacce oltre a quel pezzo di carta ciò dimostra come ci si possa sbagliare disse il predate tristemente non avrei mai creduto che hubert fosse così irragionevole da uccidersi per sfuggire alla morte lo so disse lei osservandolo con gravità neanch'io lo avrei mai creduto se non lo avesse scritto di suo pugno cosa gridò padre brown con un balzo simile a quello di un coniglio che abbia sentito il colpo del fucile già disse la signora sand molto calma ha lasciato una confessione temo che non ci siano dubbi e passò oltre risalendo il pendio da sola in tutto l'inviolabile isolamento di uno spettro familiare gli occhielli di padre brown si fissarono sul signor henry sand in una muta domanda questi dopo un istante desidazione riprese a parlare alla sua maniera incerta e precipitosa sì vedete ora mi sembra abbastanza chiaro quello che ha fatto è sempre stato un gran notatore e tutte le mattine scendeva in vestaglia dalla sua camera per un bagno nel fiume l'altro giorno è venuto giù come al solito e ha lasciato la sua vestaglia sulla riva eccola è ancora là ma ha lasciato anche un messaggio in cui diceva che andava a fare l'ultima notata e poi la morte o qualcosa del genere e dove ha lasciato questo messaggio chiese padre brown l'ha scribacchiato su quell'albero quello che si protende sull'acqua forse è l'ultima cosa a cui si è aggrappato proprio là sotto dove c'è la vestaglia venite a vedere voi con i vostri occhi padre brown corse giù per il breve pendio fino alla riva del fiume per osservare da vicino l'albero le cui fronde quasi si immergevano nell'acqua senza possibilità di errore vide una corteccia liscia scalfite in modo visibilissimo e inconfondibile queste parole un'altra notate poi giù addio hubert sand padre brown girò lentamente lo sguardo su per la riva fino a fermarsi su un lussuoso capo di abbigliamento tutto rosso e giallo con le nappe d'oro era la vestaglia da camera il prete la raccolse e cominciò a rigirarsela tra le mani in quel momento ebbe la sensazione che una figura umana fosse passata rapidamente davanti al suo campo visivo una figura scura e alta che sgusciava da dietro un albero come per seguire le ombre della signora che si allontanava non aveva dubbi si trattava del compagno dal quale la signora si era staccata poco prima aveva ancora meno dubbi su chi fosse quell'uomo il segretario del morto il signor rupert rae lasciare un messaggio simile potrebbe essere frutto di un pensiero in extremis disse padre brown senza alzare lo sguardo con gli occhi inchiodati su quell'indumento rosso e oro chi non ha sentito parlare di messaggi d'amore scritti sugli alberi è logico che ci possono essere anche i messaggi di morte scritti allo stesso modo già penso che di solito non tenesse niente nelle tasche della vestaglia disse il giovane sand e se uno non ha né carta né penna è logico che non gli resti altro che incidere il messaggio su un albero è un'abitudine che sa di francese commentò il prete malinconico ma non pensavo a questo poi dopo una pausa continuò a voce piuttosto alterata a dir la verità pensavo che se volte non sia meglio scarabocchiare un messaggio su un albero anche avendo a disposizione cataste di penne litri di inchiostro e risme di carta henry lo fissò con aria stupefatta gli occhiali in biligo sul naso a punta che intendete chiese brusco beh disse padre brown lentamente non che il postino debba portare la lettera sotto forma di tronchi d'albero o che per scrivere due righe a un amico si debba appiccicare un francobolo su un pino serve una situazione molto particolare una persona molto singolare per preferire questo genere di corrispondenza arborea ammettendo una situazione del genere e una simile persona ripeto quello che ho già detto lei scriverebbe sugli alberi anche se il mondo fosse fatto di carta e il mare di inchiostro come dice la canzone e anche se in quel fiume scorresse perennemente inchiostro o se tutti questi boschi fossero foreste di penne distilografiche evidentemente sand sentì che in quell'immagine fantasiosa del prete c'era qualcosa di pericoloso o perché la trova incomprensibile o perché cominciava a capire vedete continuò padre brown rivolgendo lentamente tra le mani la vestaglia mentre parlava quando qualcuno incide un messaggio su un albero non ci si può aspettare che scriva in bella grafia e se questo qualcuno non fosse lui non so se mi spiego o il boh mentre osservava la vestaglia rossa sembrò a un certo momento che un po di quel rosso gli avesse macchiato le dita e tutti e due palli di inviso si avvicinarono per guardare sangue disse padre brown e per un momento ci fu un silenzio di tomba rotto solo dal mormorio melodioso del fiume henry sand si raschiò la gola il naso con un mormorio tutt'altro che melodioso poi disse con voce piuttosto rauca sangue di chi o mio spiegò padre brown ma non sorrise un momento dopo continuò c'era uno spillo in questo affare e mi sono graffiato ma credo che non sia il caso di badare a questo a questa punta di spillo e si succhiò il dito come un bambino vedete disse dopo un altro silenzio la vestaglia era ripiegata e puntata con lo spillo nessuno avrebbe potuto spiegarla senza farsi almeno un graffio in parole povere huber sand non ha mai portato questa vestaglia come non ha mai scritto su quest'albero come non si è mai annegato in questo fiume il pin snake stava male in bilico sul naso di henry cadde di colpo ma per il resto lui rimase fermo come se fosse stato paralizzato dalla sorpresa la cosa continuò padre brown in tono allegro ci riporta a considerare chi mai abbia trovato tanto gusto a scrivere la propria corrispondenza privata sugli alberi come hiwata e i suoi giroglifici perché sand prima di annegarsi non ha lasciato un biglietto per sua moglie come avrebbe fatto qualsiasi altro uomo sano di mente o dobbiamo piuttosto dire perché l'altro uomo non ha lasciato un biglietto per la moglie come un uomo sano di mente perché avrebbe dovuto contraffare la calligrafia del morto il che è sempre un imbroglio pericoloso ora che i periti calligrafici hanno grandi capacità non si può pretendere da nessuno in imitazione perfetta della propria calligrafia figuriamoci di quella di un altro quando la si incide in lettere maiuscole sulla corteccia di un albero questo non è suicidio signor sand se è qualcosa questo è un omicidio bello e buono quando il notto si alzò pesantemente come un leviatano le felce e i cespugli della macchia in cui si trovavano frusciarono come screpolandosi ed egli rimase dritto con lo sguardo minaccioso e il grosso collo proteso in avanti non so tenere nascosto qualcosa disse e ho sempre avuto un vago sospetto di una cosa di questo genere me l'aspettavo da tanto tempo a dire la verità non so come potrei essere comprensivo con quell'individuo anzi con entrambi per questa faccenda che cosa intendete precisamente domandò il prete guardandolo con aria grave intendo dire rispose henry sand che voi avete mostrato il delitto e io penso di potervi mostrare i delinquenti padre brown non fece nessun commento e l'altro continuò piuttosto impaziente avete detto che gli amanti talvolta scrivono messaggi d'amore sugli alberi c'è qualcosa del genere su questo stesso albero due specie di monogrammi intrecciati insieme laggiù sotto le foglie penso che voi sappiate che la signora sand era l'erede di questo luogo molto prima di sposarsi e questa signora conosceva anche allora quel maledetto elegantone di segretario immagino che si siano incontrati qui di frequente avranno scritto su quell'albero del loro amore poi più tardi hanno usato lo stesso albero per un'altra ragione è una vicenda passionale senza dubbio oppure economica deve essere proprio gente orribile disse padre brown non c'è gente orribile nella storia o negli annali della polizia domandò sand un poco concitato non ci sono stati amanti che hanno reso l'amore più orribile dell'odio non conoscete la storia di botwell e tutte le sanguinose leggende degli amanti di questo tipo conosco la leggenda di botwell rispose il prete so anche che ha molto della leggenda ma ciò non toglie che sia vero che talvolta i mariti vengono messi da parte in modo simile a proposito dove lo hanno messo voglio dire dove hanno messo il cadavere penso che l'abbiano fatto a negare oppure l'abbiano gettato nell'acqua quando era già morto sbuffò il giovane sempre impaziente padre brown so chiuse gli occhi pensierose poi disse un fiume è un ottimo posto per nascondere un cadavere immaginario ma è un pessimo per nascondere uno vero voglio dire è facile dire di averci gettato un cadavere perché potrebbe essere stato trasportato fino al mare ma se ce lo buttate davvero 99 volte su 100 non succede così perché è molto probabile che andrà a impigliarsi da qualche parte lungo la riva credo invece che abbiano avuto un piano migliore per nascondere il cadavere altrimenti a quest'ora sarebbe già stato trovato e se avesse segni di violenza o ma lasciate perdere il cadavere nascosto disse henry con una certa irritazione non ci basta la testimonianza dello scritto su questo albero del diavolo in ogni delitto il cadavere è sempre la testimonianza più importante rispose l'altro il problema pratico da risolvere nove volte su dieci e come lo abbiano fatto sparire seguì un lungo silenzio e padre brown continuò a rigirarsi tra le mani la vestaglia rossa poi la distese sull'erba luminosa della riva solitaria ma non alzò lo sguardo anche se da qualche tempo aveva la sensazione che la scena circostante avesse subito un cambiamento per la presenza di un terzo personaggio in piedi fermo come una statua a proposito disse abbassando la voce che ne pensate di quel piccolo mino con l'occhio di vetro che ha portato una lettera al vostro povero zio a me è sembrato piuttosto scosso quando ha finito di leggerla ecco perché non sono stato sorpreso quando ho saputo che si era suicidato perché ritenevo che si trattasse di suicidio quel tipo se non mi sbaglio di grosso era un detective privato molto poco capace già disse Henry con voce esitante si può darsi spesso i mariti affidano a investigatori privati tragedie domestiche di quel tipo non è vero può darsi che avesse avuto le prove del loro intrigo e così loro io non parlerei così ad alta voce lo interruppe padre brown perché quella gente sta spiando proprio noi in questo momento è a un metro circa da qui dietro quei cespugli alzarono lo sguardo immobile in mezzo ai bianchi germogli di cera del giardino classico il folletto dall'occhio di vetro li stava fissando con quel suo ripugnante monocolo che lo rendeva ancora più grottesco Henry Sand balzò in piedi con una rapidità inaspettata in un tipo della sua mole e con un tono brusco e con una gran rabbia domandò all'uomo quel che stesse facendo invitandolo nello stesso tempo ad andarsene fuori dai piedi lord steins rispose il folletto del giardino sarebbe molto lieto se padre brown volesse venire da lui a fare quattro chiacchiere Henry Sand si allontanò fuori bondo ma il prete attribuì la sua ira all'antipatia che si sapeva esistere tra lui e il nobiluomo in questione prima di avviarsi su per il pendio padre brown si fermò un momento come per tracciare qualche segno sul tronco liscio dell'albero diede un'occhiata verso l'alto a quei geroglifici seminascosti che dovevano essere rimembranze d'amore e poi ancora le lettere più ampie scomposte della confessione del suicida vi ricordano qualcosa quelle lettere chiese e poiché il suo compagno scuoteva la testa aggiunse a me ricorda la calligrafia di quel cartello che minacciava a hubert la vendetta degli scioperanti questo è l'enigma più duro e più strano che mi sia mai capitato a mise padre brown un mese più tardi seduto di fronte a lord steins nell'appartamento di recente ammobiliato al numero 188 l'ultimo appartamento terminato prima dell'interregno della controversia sindacale e la rottura con il sindacato era un appartamento arredato abbastanza bene e lord steins stava badando al grog ai sigari quando il prete fece con una smorfia questa confessione lord steins aveva assunto un tono di cordialità sorprendente se confrontato al suo abituale modo di fare freddo e trascurato capisco che cosa significhi questo per la vostra esperienza disse steins ma di sicuro i detective incluso il nostro seducente amico dall'occhio di vetro non sembrano capaci di trovare una soluzione al mistero padre brown depose il suo sigaro e disse lentamente non è che non possano vedere la soluzione non sanno vedere il problema già rispose l'altro forse neanche io so vedere il problema ecco perché questo problema è diverso da tutti gli altri commentò padre brown sembra che un criminale abbia fatto volontariamente due cose diverse ognuna delle quali avrebbe potuto riuscire ma che insieme non potevano fare a meno di eliminarsi a vicenda sono convinto di una cosa lo stesso assassino che ha attaccato il proclama che minacciava una specie di esecuzione bolshevica ha scritto sull'albero con la confessione di suicidio ora voi potete dire che dopo tutto è possibile che quello fosse un proclama proletario che qualche lavoratore estremista volesse davvero uccidere il suo datore di lavoro e che lo abbia ucciso se ciò fosse vero resterebbe il mistero del perché abbiano lasciato o perché qualcuno abbia lasciato l'indizio opposto sul suicidio ma di certo non è vero nessuno di quei lavoratori per quanto imbestialito farebbe una cosa del genere li conosco benissimo conosco altrettanto bene i loro capi supporre che gente come tom bruce e o hogan possa assassinare qualcuno per andare a finire sulla prima pagina dei giornali e produrre in tal modo un'infinità di altri danni è un'idea che chiunque con un poco di sale in zucca definirebbe un'idiozia no non era un lavoratore indignato quello che ha fatto prima la parte del lavoratore furioso e poi quella dell'industriale suicida ma in nome di tutte le astruserie che senso ha se riteneva di poterla passare liscia come suicida perché ha arruffato tutta quella matassa con quella minaccia di unicidio voi potete dire che il pensiero del suicido è venuto dopo perché questo fa meno clamore di un assassino ma non lo era affatto dopo la storia del delitto l'assassino deve aver saputo che i nostri pensieri si erano già rivolti verso l'idea di un delitto mentre la sua attenzione maggiore doveva essere quella di tenerli ben lungi da una simile idea se si tratta di un piano realizzato poi è stato il piano di una persona davvero poco accorta ma io credo che questo assassino sia una persona molto intelligente voi ci capite qualcosa no ma capisco quello che intendete rispose steins quando dite che non so neanche comprendere il problema non si tratta semplicemente di sapere chi ha ucciso sand si tratta di sapere perché qualcuno debba accusare qualcun altro di voler uccidere sand e poi accusare sand di aver ucciso se stesso padre brown contorse il viso e il mordicchio il sigaro la cui punta si accendeva e spegneva ritmicamente quasi fosse il segnale del lavoro febbrile del suo cervello poi come parlando a se stesso disse cerchiamo di seguire con attenzione le cose è come separare l'uno dall'altro i fili del nostro pensiero dato che l'ipotesi del delitto contrasta con quella del suicidio in un caso normale lui non avrebbe dato corpo all'ipotesi del delitto ma l'ha fatto perciò aveva qualche altro motivo per farlo una ragione così forte da convincere persino di indebolire l'altra sua linea di difesa quella che si trattasse di un suicidio in altre parole l'ipotesi del delitto non era in verità l'ipotesi del delitto voglio dire che non la usava come ipotesi del delitto non tentava di scaricare su qualcun altro la colpa del delitto ma lo ha fatto per qualche altra ragione incomprensibile il suo piano criminale comprendeva quel proclama che sand sarebbe stato assassinato servisse o meno a gettare i sospetti su altra gente in qualche modo quel proclama in sé per sé era necessario ma perché sempre fumando rimase concentrato e assorto per cinque minuti prima di parlare ancora a che cosa doveva servire quella minaccia se non a far crescere il sospetto sugli scioperanti e a che cosa è servita in realtà è ovvio ha prodotto inevitabilmente l'effetto opposto a quello che sembrava voler avere intimava a sand di non fare la serrata e forse quella minaccia era l'unica cosa al mondo che avrebbe potuto spingerlo a farla bisogna tener presente di che uomo si trattava e qual era la posta in gioco quando è chiamato magnate dai nostri stupidi giornali quando è considerato un eccellente uomo di sport da tutti i più distinti imbecilli d'inghilterra un uomo non può semplicemente gettare la spugna perché è minacciato con una pistola sarebbe come andare in giro ad ascot con una piuma bianca su un assurdo cappello bianco ciò manderebbe in frantumi quell'ideale di se stesso che ogni uomo che non sia un perfetto testardo certamente preferisce la realtà della vita e sand non era un testardo era un tipo coraggioso era anche un impulsivo perciò quella minaccia produsse il suo effetto immediato come un incantesimo suo nipote che era abbastanza dentro nell'ambiente operaio gridò subito che la minaccia doveva avere una risposta immediata e risoluta sì disse lord staines l'ho notata anch'io si guardarono per un istante poi staines aggiunse con un'oncuranza così voi pensate che quello che il criminale voleva in realtà era la serrata gridò il prete con tutta la sua energia lo sciopero o comunque vogliate chiamarlo comunque voleva che si fermasse il lavoro subito forse che i crumiri si mettessero immediatamente all'opera di certo che gli scritti e i sindacati se ne andassero all'istante ecco quello che voleva in realtà e dio solo sa perché e ci è riuscito credo ci è riuscito senza darsi troppo pensiero delle altre complicazioni riguardo all'esistenza di assassini bolshevichi ma poi poi qualche cosa è andata per il verso giusto immagino qui non posso fare altro che indovinare e procedere lentamente a tastoni la sola spiegazione che riesco a trovare che qualcosa cominciò ad attirare la sua attenzione su questo punto che è il vero nocciolo di tutto il problema il motivo qualunque fosse che lo spinse a bloccare la costruzione di quell'edificio poi disperatamente in maniera abbastanza incongrua ha tentato di imbastire l'altra traccia che conduceva la riva del fiume solo e soltanto perché quella strada conduceva lontano da questi appartamenti alzò lo sguardo attraverso le lunette dei suoi occhiali osservando l'ambiente e il mobilio che gli stava intorno quel lusso sobrio di un tranquillo uomo di mondo poi disse bruscamente in breve l'assassino aveva paura di qualcosa o qualcuno in questi appartamenti a proposito perché siete venuto a vivere qui e ancora il giovane harry mi ha detto che gli avevate fissato un appuntamento alla mattina presto quando vi siete trasferito qui è vero niente affatto rispose steins ho avuto le chiavi da mio zio la sera prima non so perché harry sia venuto qui quella mattina ah disse padre brown allora ritengo di sapere perché è venuto mi è sembrato che fosse rimasto sorpreso incontrandovi proprio nel momento in cui stavo uscendo e tuttavia commentò steins guardandolo con un lampo dei suoi occhi grigio verde tuttavia voi pensate che anch'io sia un mistero penso che voi siete due misteri disse padre brown il primo mistero è perché voi vi siete in un primo tempo ritirato dalla ditta di sand il secondo è perché dopo questo siete venuto a vivere in un palazzo di sand steins pensieroso aspirò qualche boccata di fumo scosse le ceneri poi suonò un campanello che stava sulla tavola scusate mi disse vorrei che altre due persone fossero presenti a questo incontro jackson il piccolo detective che conoscete risponderà a questa scampanellata ho pregato henry sand di entrare qualche minuto dopo padre brown si alzò si mise a camminare su e giù per la stanza poi si fermò a guardare accigliato nel caminetto intanto continuò steins non ho difficoltà a rispondere a entrambe le vostre domande ho lasciato la ditta sand perché ero sicuro che c'era qualcosa di marcio e che qualcuno ci rubasse sopra sono tornato qui e ho preso questo appartamento perché volevo scoprire la verità sulla morte del vecchio sand scoprirla qui sul posto padre brown si guardò attorno mentre il detective entrava si fermò con gli occhi fissi sul tappeto e ripete sul posto il signor jackson vi racconterà disse steins che hubert aveva affidato a lui l'incarico di scoprire chi fosse il ladro che rubava nella ditta jackson ha presentato una relazione il giorno prima che hubert scomparisse sì a noi padre brown ora so dove è scomparso so dove si trova il cadavere intendete dire rispose il suo ospite in fretta è qui disse padre brown battendo i piedi sopra il tappeto qui sotto questo raffinato tappeto persiano in questa stanza comoda ed elegante come avete fatto a scoprirlo santo cielo mi sono semplicemente ricordato disse padre brown di averlo scoperto nel sonno chiuse gli occhi come per cercare di descrivere un sogno e continuò con fare sognante questo delitto ruota tutto attorno al problema di come occultare il cadavere e io l'ho risolto nel sonno ogni mattina ero svegliato dal martellio che veniva da questo edificio quella mattina invece sono stato svegliato solo a metà poi mi sono raddormentato per svegliarmi un'altra volta convinto di essere in ritardo ma non lo ero perché perché c'era stato rumore di martelli quella mattina anche se tutto il lavoro era fermo un rumore breve affrettato nelle ore piccole che precedettero l'alba un uomo che dorme si scuote automaticamente per un rumore così familiare ma si riaddormenta di nuovo perché il rumore non è alla solita ora perché allora un certo criminale misterioso voleva che il lavoro cessasse che nuovi lavoratori si mettessero all'opera perché se avessero ripreso il lavoro il giorno dopo i lavoratori di prima si sarebbero accorti che era stata conclusa una nuova parte del lavoro durante la notte i lavoratori di prima sapevano perfettamente a che punto avevano lasciato la loro opera e avrebbero scoperto che tutto il pavimento di questa stanza era ormai inchiodato inchiodato da un uomo che sapeva farlo bene perché era stato a lungo in mezzo ai lavoratori e aveva imparato il mestiere mentre parlava la porta si aprì e sulla soglia come se fosse spinta violentemente apparve una testa piccola che spuntava da un collo robusto un volto li fissava dietro gli occhiali henry sand disse osservò padre brown con i suoi occhi rivolti verso il soffitto di non essere capace di tenere le cose nascoste ma credo che abbia fatto torto a se stesso henry sand si ritirò di botto lanciandosi in fretta lungo il corridoio non solo è riuscito a tenere perfettamente nascosti i suoi furti alla ditta per anni continuo il prete con aria assorta ma quando suo zio li ha scoperti è riuscito a nascondere il cadaveri in un modo nuovo e originale in quello stesso istante steins premette ancora il campanello che vibrò con uno stridore lungo insistente e l'omino dall'occhio di vetro si scagliò come una palla di fucile lungo il corridoio dietro al fuggiasco con un'andatura che ricordava quella di un fantoccio meccanico nello stesso tempo padre brown guardò fuori dalla finestra appoggiandosi a un piccolo balcone e vide 5 o 6 uomini staccarsi dalla cancellata e dai cespugli sottostanti e distendersi anch'essi con mosse meccaniche come un meccanismo o una rete opponendo una barriera al fuggitivo che era uscito di corsa dalla porta padre brown vide solo la conclusione di questa storia che si era svolta tutta in quella stanza dove henry aveva strangolato hubert e nascosto poi il cadavere sotto l'impenetrabile impiantito dopo aver bloccato il lavoro per potersi muovere più liberamente i sospetti di padre brown erano sorti da una puntura di spillo ma soltanto per digli che era stato trascinato nel cappio di un'enorme menzogna finalmente gli sembrò di capire anche stein ed egli amava far collezione di gente strana difficile da capire comprese che questo stanco gentiluomo che aveva una volta accusato di avere il sangue troppo verde aveva in realtà una specie di fiamma verde della sua coscienza o nel suo concetto convenzionale dell'onore fiamma che prima lo aveva costretto a ritirarsi da un affare poco pulito e poi gli aveva fatto venire lo scrupolo di aver gettato la responsabilità sulle spalle degli altri per questo era ritornato al suo posto nella qualità di seccato ma operoso detective aveva piantato le sue tende nello stesso luogo del misfatto dove era stato sepolto il cadavere così l'assassino trovandolo ad annusare troppo vicino al corpo del delitto aveva messo in scena l'alternativa il dramma della vestaglia e dell'annegato era abbastanza chiaro ma prima di ritirare la testa dalla finestra per ripararsi dall'aria notturna e dire addio alle stelle padre brown lanciò un'altra occhiata verso l'alto all'immensa mole nera di quell'edificio ciclopico che si slanciava nelle tenebre della notte e si ricordò dell'egitto e di babilonia e di tutto quello che è nello stesso tempo eterno ed effimero nell'opera dell'uomo mi ricorda quelle poesie di coppè sul faraone la piramide questa casa dovrebbe essere la casa di cento persone e invece è una montagna di pietre e la tomba di un uomo solo lo scandalo di padre brown capitolo 7 la punta di spillo